in diretta dagli studi del flat di via tarino in mestre nuovo format che non c'era forse c'era un perché il nuovo shopper mestre bella ma non ci vivrei al frullatorio il primo incubatore incubatorio di mestre che hanno l'obiettivo di presentare a voi gentile pubblico le associazioni culturali che si sbattano per il territorio chi cazzo sono questi due chi li conosce silenzio silenzio tu devi stare zitto devi stare zitto devi stare zitto devi stare zitto devi stare senti Alberto ma da quando sei co-founder e president di questa working platform hai empowered il livello di posti della tua life allora vedi che è lei che è un problema cosa c'entra il signore adesso buonasera signora mi scusi ma sto parlando con lei ma sto parlando con me o con lei è certo che parlo con lei che mi fa le domande l'ho che pura lho 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 Il frullatario, il frullatario, il frullatario